un saluto cari amiche e cari amici vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube iscrivetevi al mio canale youtube attivate la campanella mettete i vostri like ai miei video non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione la palla di pelle rassegna stampa di oggi giovedì 19 settembre milan allenatore milan si va verso un forse andrà via qualsiasi sia il risultato del derby questo è quello che si può incominciare a leggere tra le righe ci sono articoli molto interessanti non tanto di cronaca c'è poco da dire ognuno dice la sua versione sull'allenatore ma soprattutto sulle opinioni e parto proprio con il corriere della sera arianna ravelli attenzione arianna ravelli sempre molto attenta al ai risvolti della società e della proprietà scrive non scrive spessissimo sul milan ed è per questo motivo quando scrive bisogna seguire bene perché non sono mai parole casuali zlatan ibrahimovic dice arianna ravelli le parole sbagliate di ibra è senza dubbio una persona intelligente e ha già capito da solo di avere sbagliato lo farebbe presumere l'aver aggiunto ai microfoni di amazon prime k uno scherzavo alle improvvide parole alle improvvide dichiarazioni del premio al libro ma non basta certo precisare che i leoni con i relativi gattini e i padri eterni o i boss nominati ogni due per tre facciano parte di un repertorio consolidato di battute del personaggio il problema che il personaggio ibra va bene per il parco di sanremo ci ha divertito non per fare il dirigente del milan non sono adeguati i toni i modi e nemmeno i concetti non è questione di forma ma di sostanza tra le cose di sostanza non ce neanche l'essere stato assente impegni personali pregressi negli ultimi giorni il tema piuttosto è come si intende interpretare il ruolo di consigliere di redber primo rappresentante della proprietà a casa milan è il momento di parlare poco pubblicamente e nel caso certo senza fare i bulli quando la squadra viene scherzata sul campo e molto ai giocatori soprattutto a quelli che sembravano avere poca voglia di restare già in estate un nome per tutti teo che non hanno portato un'offerta per farsi vendere e che ora non sono in grado di trascinare la squadra fuori dalle secche ma soprattutto bisogna parlare in società dove doveva essere chiaro nell'estate che un allenatore come fonseca avrebbe potuto incontrare delle difficoltà all'inizio del suo percorso e avrebbe avuto bisogno del doppio sostegno vista l'ostilità dell'ambiente c'è da aggiungere qualcosa perfetta questa disamina c'è al milan la struttura adeguata l'impressione che anche nell'organigramma qualche casella vada riempita certo l'inizio horror del milan di fonseca a proposito scelta condivisa ibra compreso è peggio delle aspettative ora per svoltare c'è un solo modo derogare i propri principi in linea teorica anche validi che in estate hanno portato a scegliere un allenatore giovane di seconda fascia preparato e che avesse fame di imparare e affidarsi a un nome di peso che possa fare scudo e convogliare un po' di consenso ci sono momenti e momenti quelli per ricreare dalle fondamenta e quelli per metterci una pezza prima che venga giù tutto serve un allenatore di peso che possa fare scudo e convogliare un po' di consenso vi pare che un allenatore di peso che possa far convogliare il consenso sia tudor che sembra che sia stato contattato spero proprio di no e a questo proposito vediamo cosa dice carlos passerini quali sono allora non mi interessa il discorso riguardante fonseca fra nomi che circano c'è quello di ed interzit che ha trascinato il dormono alla finale di champion poi persa con real si parla di un contatto telefonico già avvenuto ma il milan smentisce per qualità e filosofia di gioco è un profilo che rientra nei parametri del progetto rosso nero sarebbe un allenatore di statura internazionale anche se dopo questa fallimentare partenza è lecito chiedersi se non sarebbe meglio affidarsi piuttosto a un professionista che conosca bene la serie a quali sono allenatori da milan ce n'è uno solo allenatore da mila uno solo massimiliano allegri poi non ha non ha buoni rapporti con ibra bisogna superare i buoni rapporti con ibra o cattivi rapporti con ibra in questo momento non è un problema di rapporti è un problema di di mettere sulla panchina del milan un allenatore che sappia in queste situazioni e che vissuto in queste situazioni con la juventus come muoversi possa piacere o no incomincio già quelli che storcono il naso per allegri storcono il naso per fonseca storcono sempre il naso bisogna a un certo punto prendere una decisione tudor no sarri mi hanno detto ieri la gazzetta andava avanti poi andiamo non è stato mai contattato terzi potrebbe andar bene ma come dice giustamente carlos passerini può portare può non essere la situazione visto che non conosce il calcio italiano eccetera l'abbiamo lì lì bisogna fare anche un passo indietro trovare l'accordo certo che come diceva ieri lucca diddi con allegri bisogna dargli le chiavi di milanello e se ibra imovic non vuole dare le chiavi a nessuno di milanello è chiaro che allora di essere un allenatore non dalla grandissima personalità perché c'è la personalità di ibra e però non possiamo noi tifosi che andiamo a vedere il milan andare a vedere non siamo una clinica rieb che bisogna andare vediamo l'analisi sono non vanno d'accordo quello vorrebbe cioè siamo stanchi quello che interessa il milan e questo è il problema questo è il problema quindi un grande allenatore deve con ibra deve prendere un grande allenatore e poi farà il dirigente c'è c'è stato maldini c'è stato galliani c'è stato braida c'è stato il presidente berlusconi c'è stato ai suoi tempi sandro vitali che è stato un grande direttore sportivo e con grandi allenatori c'era l'idom come allenatore eppure e ognuno faceva il suo mestiere e questo il discorso quindi spero che superino questo questa fase ma in effetti allegri diventa complicato max allegri che risolverebbe parecchi problemi ma che pare non essere i rapporti eccellenti con ibraimovic e chi se ne importa li trovino che pare poi thomas tuckel costa 12 non ci penso neanche con sei sao potrebbe essere non mi ha mai fatto impazzire ma adesso sarebbe tanta roba igor tudor quel che conta in caso di avvicinamento in panchina è che non si vada troppo per le lunghe a settembre c'è ancora il tempo per aggiustare la stagione quindi se si decidi di cambiare meglio non perdere tempo sono d'accordo qui dice ancora che fonseca avrebbe bisogno di una notte da diavolo ma io fonseca poi vediamo speriamo che vinca vinca 3 a 0 in milan e che lo confermino però da quello che so mi sembra difficile in questo momento adesso andiamo a un altro articolo di fondo di questa volta di franco ordine vediamo in merito al momento delicato del milan eccolo qua ordine che dice nessuno vuole insegnare il calcio a zlatan ibraimovic ma è bene che zlatan ibraimovic impari in fretta a uscire dalla sagoma di popolare calciatore per entrare grazie a una comunicazione adeguata tutti parlano della comunicazione di ibra nel nuovo ruolo di numero uno dell'area tecnica del milan che si è ritagliato martedì notte in davanti ai microfoni di sky sport la sua sparata in parte rivolta a boba rimpara indirizzata a qualche gattino della carta stampata gli ha di sicuro procurato un bel numero di censure pubbliche private moltiplicate inevitabilmente dalla serata disastrosa del suo milan che rappresenta il club davanti alle telecamere chi rappresenta il club davanti alle telecamere deve abbandonare la cifra da influencer a caccia di clic sui social e parlare con rispetto non solo degli interlocutori ma proprio della storia del club rappresentato adesso che il tempo di fonseca sembra già irrimediatamente squaduto la questione si ripropone per una serie di altri motivi martedì sera a san siro non segnalato forse perché abilmente nascosto tra il pubblico pagante primo esaurito mancato di champions è un altro segnato e 59 mila spettatori di disaffezione si è presentato ed in terzi quel che le esperienze insegna che i cambi in corso a poca settimana dal via della stagione devono tenere conto di alcune dinamiche la principale conoscenza approfondita del calcio tagliato e della sua specificità poi la padronanza dell'italiano così da rendere immediato ed efficace il dialogo con lo spogliatorio infine la necessità di non stravolgere subito il sistema di gioco per intervenire col tempo producendo piccoli cambiamenti quotidiani e puntando alla soluzione del problema numero uno che secondo che secondo franco ordine ma non solo secondo lui secondo tutti è la il problema della difesa andiamo fonseca si gioca tutto nel derby la gazzetta va su una si gioca tutto nel derby a noi non risulta che si giochi tutto nel derby ma che la sua la soluzione che il suo futuro temo per lui che sia un po' segnato andiamo a vedere se c'è qualcosa di interessante fonseca si gioca al milan derby decisivo qui di articoli di fondo ecco vediamo chi al suo posto sarri candidato in pol non è stato mai contattato sarri non è stato mai contattato sarri terzi dice lui dice ramazzotti che non convince può essere non lo so tudor anche lui ex lazio con ibrino vicestima so che ci sono stati dei contatti sto soffrendo tra gli svincolati c'è anche allegri il cui ritorno a milanello è considerata più una suggestione che un'opzione vero anche questo non è un nome calzo terci secondo la gazzetta hanno legato contatti tra i tecnici da non scattare pure tu che costa 12 milioni di euro il milan c'è già approvato nella scorsa estate e tu che ha rifiutato da quello che mi risulta andiamo a tutto sport che parte ovviamente dalla scomparsa di totoschi laci un inter da champions bella partita dell'inter crisi milan c'è fonseca su fonseca c'è l'ombra terzi c'è l'ex del dormon si è reso disponibile contatti aperti anche con tu che contatti no con allegri non c'è stato un contatto poi abbiamo capito già il discorso allegri braimo contatti con allegri ve lo garantisco io non ci sono stati con se sao e sarri sarri sono i nomi che tutti fanno vediamo un po come si svilupperà oggi la giornata care amiche cari amici vediamo come si svilupperà la dicono che con terzi non ci sono contatti con sarri so io che non ci sono contatti con allegri non ci sono contatti e allora qualche contatto con tudor ecco io ripeto 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 come ha scritto ariana ravelli chiaro serve un allenatore da grande milan e se ibraimovici deve fare un po un passo indietro per quello che riguarda il discorso del boss del comando io eccetera lo faccia per il bene del milan in questo momento non serve un allenatore con il quale ibraimovici abbia contatti tutti i giorni serve un allenatore che gestisca da solo milanello con ovviamente dei confronti con la società con la proprietà rappresentata da ibra questo è la mia opinione questa è la mia opinione se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo pelegatti attivate la campanella e scaricate il link in descrizione ciao